Parlando di Ventimiglia, volevo fare un applauso a Cedric che questa sera non ha potuto raggiungerci perché è bloccato in quella zona, bloccato nella Varroia. Cedric, la settimana scorsa questo contadino che tutti abbiamo imparato a conoscere attraverso la sua pagina Facebook e attraverso le sue iniziative di solidarietà ha accompagnato 92 migranti fino a Nizza e lì è stato bloccato dalla polizia che inizialmente gli ha tolto i documenti per poi nuovamente denunciarlo. Cedric ha avuto un processo anche lo scorso martedì, oggi un altro attivista, diciamo un altro in realtà un volontario della Varroia, un signore con due bambini aveva dato un passaggio ai migranti e quest'oggi appunto ha avuto anche lui un processo. Questo per indicare come in quel territorio così vicino alla frontiera e a Ventimiglia, così anche luogo di passaggio ma anche luogo di grande solidarietà e grande umanità ci sia in atto un meccanismo repressivo da parte dello Stato francese che veramente va denunciato. E quindi un applauso a Cedric secondo me è doveroso visto che se non ci fossero questi guai giudiziari sarebbe qua questa sera con noi. Ecco io torno a Pietro per l'ultimo giro. Milano è stata anche la città nella quale si è svolta una delle manifestazioni più grandi degli ultimi anni diciamo attorno al tema dell'immigrazione dei diritti, una manifestazione antirazzista. Noi abbiamo parlato anche di eccedenza perché effettivamente era da anni che non si vedeva una manifestazione così partecipata. Chiaro era una manifestazione che ha avuto lo sappiamo una gestazione istituzionale però è anche vero che le migliaia, le centinaia di migliaia di persone che hanno attraversato quella manifestazione lo hanno fatto aderendo una buona parte a una vostra piattaforma, la piattaforma Nessuna Persona Illegale che ha raccolto moltissime adesioni. Io non mi ricordo a quante siete arrivati mi pare più di 300 se non sbaglio e una piattaforma rivendicativa molto interessante ma che ha portato in piazza diciamo un mondo di sotto spesso spesso oscurato, reso invisibile dalla stampa ma che in realtà c'è, vuole avere una voce pubblica, vuole contare e soprattutto attraverso le buone pratiche, attraverso un lavoro quotidiano comunque sta veramente tenendo alta la barra dei diritti. Abbiamo avuto anche noi la riprova qua nel Veneto che comunque è un territorio che ha torto spesso viene raccontato nella narrazione mainstream con un territorio razzista in realtà anche qua nel nostro piccolo abbiamo costruito una manifestazione nel 19 marzo a Venezia appunto side by side che ha visto oltre 5.000 persone partecipare da una manifestazione che era lanciata dal basso e che in una giornata simbolo come quella del 19 marzo. Ecco quindi io chiederei proprio a te quale può essere il percorso di Nessuna Persona Illegale che appunto in questo momento rappresenta anche un'ipotesi non solo per la città di Milano ma un'ipotesi politica magari per tutto il territorio italiano. Brevemente magari racconto la genesi, non so se tutti la conoscono. Succede che dopo la manifestazione di Barcellona che appunto si chiamava Nessuna Persona Illegale che ha visto in piazza centinaia di migliaia di persone l'assessore milanese ai diritti che si chiama Maiorino ha deciso di lanciare un'analoga manifestazione a Milano lui è del PD il motivo per cui l'abbia lanciata io vi devo dire la verità ancora adesso non l'ho capita però di fatto l'ha lanciata in un primo momento l'ha sottostimata e l'ha indicata come una marcia quindi una cosa abbastanza piccola da gestire probabilmente aveva un obiettivo di differenziazione all'interno del suo partito sta di fatto che si è impegnato e ha fatto una cosa che dal nostro punto di vista è stata molto rilevante e cioè che cosa ha fatto? Ha convocato una manifestazione di parte istituzionale pro-immigrazione quindi ha ribaltato il discorso pubblico in maniera di immigrazione e ha chiamato ad una visibilità pubblica i soggetti che invece dell'immigrazione non fanno il racconto ordinario ora la chiamata era estremamente problematica ha chiamato molti soggetti che secondo lui potevano attivarla ha chiamato anche il Naga in un incontro personale su una traccia che era molto molto blanda estremamente blanda che sostanzialmente si limitava a dire Milano senza mori questo era un po' il tema e nient'altro ma almeno dal nostro punto di vista aveva un pregio e cioè non diceva niente della legalità cioè non diceva accoglienza nella legalità che è un tipico tema caro al PD e che noi pensavamo sarebbe stato usato a quel punto si poneva il problema di che cosa fare noi come associazione in proprio ma soprattutto quell'insieme di mondo che a Milano dell'immigrazione fa una battaglia politica da tantissimi anni, da decenni ormai e che certo non si poteva appiattire su una convocazione fatta dal comune così quindi da una parte una chiamata pro-immigrazione dall'altra parte una chiamata imbarazzante perché era imbarazzante, estremamente imbarazzante era una chiamata che veniva dal PD un partito che nello stesso momento se ne usciva con due decreti che sono i decreti Minniti Orlando fortemente penalizzanti per l'immigrazione da una parte e in generale per i soggetti marginalizzati quindi come maneggiarla questa cosa cosa farne, come renderla un'attivazione che potesse coinvolgerci allora a quel punto abbiamo deciso come associazione di non rispondere per l'adesione e invece convocare per il 19 di aprile un'assemblea pubblica a cui abbiamo chiamato tutto il mondo diciamo plurale, antagonista che si occupa di immigrazione per porre la questione cioè dirgli guardate c'è una manifestazione pro-immigrazione ma viene dal PD cosa ne facciamo? che cosa ne facciamo? noi avevamo una mezz'idea la nostra idea era di operare una contaminazione cioè di impadronirci di un evento che non veniva da noi perché non veniva da noi oggettivamente non veniva da noi ma riempirlo di contenuti e farlo diventare altro altro da sé da quello che sarebbe sicuramente stato e a quel punto è partito un percorso di assemblee pubbliche molto interessanti molto partecipate che in un paio di settimane perché i tempi erano 19 aprile e 20 maggio la manifestazione in un paio di settimane con cadenza direi direi insopportabile detta posteriori ma insomma continua insomma continuamente telefonate incontri e cercava di ragionare sul come uscire da questo impasse l'uscita dall'impasse che è stata pensata proprio nei primi giorni è stata di costruire una piattaforma una piattaforma rivendicativa che è pubblica e che è molto nota da rilanciare nei confronti di tre soggetti che erano l'Unione Europea il governo italiano e il comune di Milano con 25 punti all'incirca che poi di cui possiamo anche parlare ma insomma in materia di immigrazione punti possibili che si potevano che si potevano fare che si possono fare coagulati nella formula nessuna persona illegale e qui va detto va detto qualcosa e cioè io mi riaggancio un momento a quello che prima ha detto Nawal cioè Nawal ha detto secondo me l'obiettivo dell'Unione Europea e poi dell'Italia in generale è quello di una selezione nazista arrivano solo i migliori allora che è molto interessante come affermazione molto netta io la dico in un altro modo la nostra idea che ci appartiene ormai da molti anni è che l'operazione che è stata fatta dal governo italiano ma nell'ambito di una politica europea schierata in quel senso a partire dagli accordi di Schengen dell'87 è questa non di fare un intervento in materia di immigrazione che avesse come obiettivo quello di regolare l'immigrazione cioè di determinare la legalità o l'illegalità dell'immigrazione ma al contrario di determinarne l'illegalità a priori cioè di costruire un dispositivo normativo che facesse sì che tutti i soggetti che arrivano sul territorio siano necessariamente illegali irregolari sul territorio guardate questa è esattamente la strategia della normativa italiana e della normativa UE sull'immigrazione cioè un modo di gestione dell'immigrazione al contrario cioè non attraverso la regolarità ma attraverso l'irregolarità perché c'è un perché le persone che sono illegali sul territorio che sono illegali nell'Unione Europea sono molto più facili da maneggiare perché non hanno diritti non sono portatori di alcun diritto portatrici di alcun diritto non avendo diritti possono essere usate utilizzate in tutti gli ambiti che potete pensare dal lavoro nero per esempio da un meccanismo di sostituzione del welfare sociale come si fa con le badanti in Italia per esempio da un meccanismo un dispositivo pensato di sostituzione dei lavoratori nel settore per esempio dell'agricoltura che è un settore che sia nel nord Italia sia notoriamente nel centro nel sud Italia è dominato da lavoratori che sono irregolari da lavoratori in nero nella logistica che vive di lavoratori in nero ora noi siamo arrivati all'idea appunto che la normativa in materia di immigrazione italiana europea in generale non fosse destinata a gestire il flusso dei regolari ma a maneggiare il flusso degli irregolari degli irregolari a priori fatti a priori come clandestini questo è stato il pensiero che ci ha attraversato ed è da lì che è nata l'idea di chiamarsi e di dare un nome alla piattaforma che è nessuna persona illegale perché noi pensiamo che il primo obiettivo del nostro dispositivo legislativo sia quello di costruire illegalità quindi il nome che abbiamo dato è nessuna persona è illegale per rendere chiaro che nel momento in cui si parla di immigrazione non stiamo parlando di uno scontro fra soggetti che la legalità la potrebbero avere ma non la perseguono ma di soggetti che la legalità non la possono avere non la possono perseguire e che quindi non hanno nessun rapporto con questo istituto che passi attraverso la volontà e questo è un tema che per noi è centrale a partire da questo appunto abbiamo costruito una chiamata pubblica un incontro pubblico che in realtà ha trovato vicino moltissimi soggetti moltissimi soggetti in realtà che alla fine sono state più di 300 e le persone vabbè non si contano a migliaia e migliaia l'altro tema che abbiamo cercato di contenere nella piattaforma è stato anche questo a nostro modo di vedere un salto e cioè abbiamo detto chiaramente che l'immigrazione non riguarda gli immigrati come altro da noi e non riguarda nemmeno l'immigrazione solo come solidarietà o peggio come beneficenza ma ci interessa perché i diritti e gli interessi politici dei migranti sono esattamente gli stessi interessi dei cittadini italiani non sono altra cosa cioè a dire che il modo con cui si affronta l'immigrazione è o ha molto a che vedere con un processo e con un progetto di gestione politica dei diritti di tutti quindi noi abbiamo espressamente detto che i diritti dei migranti sono i diritti degli italiani ma non in senso lato abbiamo cercato di declinarli all'interno dei punti e uno ve lo dico tanto per capirci il comune di Milano è un comune che aderisce ad una rete nazionale che più o meno si chiama diritti di residenza per i senza fissa dimora è uno dei soggetti promotori c'è una legge del 54 che prevede che tutti i soggetti senza fissa dimora abbiano diritto ad una residenza virtuale anche se banalmente dormono sotto un ponte ecco il comune di Milano è il promotore uno dei promotori di questa rete ebbene a Milano non viene concessa la residenza senza fissa dimora non viene concessa né a essenza fissa dimora italiana italiani né a essenza fissa dimora migranti non viene concesso per esempio a tutti quei soggetti che stanno nei centri di accoglienza straordinaria e che sono richiedenti asilo e che se non hanno la residenza per esempio non possono accedere ai diritti alla salute non possono avere accedere all'ISE insomma tutta una serie di meccanismi di dispositivi dell'Uelfar la prima attività che faremo post 20 maggio che è giovedì davanti al comune di Milano sarà proprio questa che si chiama sindaco virgola la residenza cioè c'è una legge in questo caso la legge c'è ce ne sono tre al direttore mettiamo insieme gli interessi dei cittadini italiani e dei cittadini migranti la residenza la devi dare va concessa ma va concessa perché in questo caso la legge c'è quindi dovrebbe essere una cosa facile ed invece attraverso meccanismi burocratici di negazione non viene non viene data ora ritorno un passo indietro la piattaforma a quel punto ha funzionato ha appunto attivato moltissimi soggetti ha costruito uno spezzone direi enorme della manifestazione del 20 di maggio che a quel punto è diventata una manifestazione e non più una marcia così che non si sa che cosa sia e ha riempito il contenuto che era il nostro contenuto e quindi è riuscita nell'operazione di impossessamento di un corteo che era invece voluto da altri e cercando di dirla in politichese è riuscita a impedire la saldatura che era ormai stata orchestrata all'interno del PD e che era quella di uscirsene semplicemente con uno slogan che era appunto accoglienza nella legalità una legalità appunto impossibile di questo non si è parlato questa saldatura politica non si è avuta e io ritengo che sia stato un grosso successo invece riuscire ad allargare il tema al discorso invece dell'illegalità e dell'illegalità costruita a priori non solo anche ad allargare tutto questo discorso al fatto che soprattutto in questi ultimi anni si parli di asilo come se l'asilo esaurisse il tema migranti e non è così perché il tema asilo riguarda dei soggetti che hanno subito delle persecuzioni nel paese di origine e che hanno subito delle persecuzioni relativamente dirette e sono la minoranza tuttora la minoranza dei cittadini stranieri che arrivano sul territorio italiano per gli altri non c'è nessun tipo di richiesta che può essere fatta non c'è nessun meccanismo di inclusione sociale nessun meccanismo di regolarizzazione ora noi pensiamo qui lo dico come piattaforma che il tema dell'illegalità quindi al contrario sia il tema e la chiave giusta di lettura per poter parlare per poter parlare di immigrazione per finire che credo sia anche un po' la domanda così che stava sotto traccia che faceva Stefano dico questo che cosa che cosa ne vogliamo fare ora abbiamo un diciamo un luogo dove ci troviamo tutte le settimane e che vuole fare politica e che ha chiaro una cosa che un soggetto di intermediazione politica tra l'attivismo di base e le istituzioni non c'è più non c'è a Milano ma non c'è nel resto d'Italia non c'è un soggetto con cui nessuno di noi singolarmente possa parlare per riportare dei contenuti che poi in qualche modo le istituzioni discutano per quanti di voi sono un po' più vecchi e magari hanno avuto a che fare con i fori sociali con Genova eccetera eccetera il meccanismo che era pensato lì era un meccanismo che costruiva contenuti politici che poi attraverso una sorta di transfert che avrebbe dovuto essere rifondazione comunista arrivava nel Parlamento italiano e avrebbe dovuto essere discusso ora quel progetto è crollato miseramente possiamo discutere del perché ma nella situazione attuale noi un soggetto di intermediazione politica nei confronti dell'istituzione non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo a Milano e credo che non ce l'abbiamo in tutta Italia quindi l'idea che ci scambiamo fra di noi è quella di una soggettivazione in proprio per la costruzione di un di un soggetto di un di una rete noi la chiamiamo piattaforma e vediamo che cosa ne viene ma di un soggetto che non c'è cioè io in questo momento non saprei dirvi che cosa è non saprei dirvi è un partito no non è un partito è un movimento ma forse qualche cosa del genere è un sindacato no non è nemmeno un sindacato che cos'è qualche cosa in divenire è una scommessa che però il 20 di maggio ha visto la partecipazione di veramente decine di migliaia di persone e che ci convince sempre di più che c'è uno spazio uno spazio che sta fuori dai partiti politici e sta fuori anche dai soggetti politici classici è un qualche cosa di nuovo un qualche cosa che che va costruito e che è molto complicato da costruire che io penso sia anche però produttivo molto produttivo mi piacerebbe prima Stefano ha detto qualche cosa mi ha detto mentre eravamo fuori ma non è che vi vogliamo buttare la croce addosso a voi di Milano ma dovreste cercarvi di muovere anche fuori dal fuori dal vostro territorio no io dico in questo momento facciamo fatica a tenere insieme quelle 70-80 persone che si muovono su livello globale su livello locale dopodiché siamo più che disponibili a collaborare in modi estremamente complicati per portarli nel resto d'Italia ma io prima sentivo come tutti voi da Wall che parlavano che parlava della Sicilia e poi della Grecia ma mi sono fermato alla Sicilia e veramente c'è una distanza abissale da Milano è come se parlassimo di due mondi diversi ma non perché sia meglio sia peggio ma perché veramente sembra di parlare di realtà estremamente diverse e soprattutto di soggetti che non si parlano fra di loro e questo il disastro non si parlano fra di loro e anche per rimanere in un luogo molto più vicino Melting Pot per esempio è un un ambito che io stimo molto su cui anche mi documento come dire lo tengo molto presente in ambito di immigrazione ma per quello che mi riguarda nella mia storia è la prima volta che ho a che fare direttamente con Melting Pot e Melting Pot direttamente con noi perché non sono tantissimi chilometri sono 300 chilometri eppure davvero è come se ogni ogni territorio costruisse un suo percorso che poi corre indipendentemente da quello degli altri e questo è un fattore di ricchezza per il territorio ma di debolezza estrema per la rivendicazione generale perché io sono convinto che dell'immigrazione non si può più parlare solo in un ambito di specialisti cioè di soggetti che sono interessati all'immigrazione perché ne sanno dei tecnici l'immigrazione penso che sia lo snodo politico della contemporaneità uno snodo che parla di lavoro che parla di pensioni che parla di welfare che parla di minori che parla di scuola che parla di tutto cioè uno snodo che tiene insieme tutte le rivendicazioni politiche e che non ha nell'insieme un interlocutore politico questo è il grande problema ed è questo il punto che in questo momento molto così con molto profilo basso stiamo cercando di approcciare chiederei anche a voi e poi apriamo un po' il dibattito perché abbiamo anche scelto una location di questo genere proprio per permettere anche lo scambio domande quindi farei fare un giro prima Tommaso e poi Naval soprattutto anche un po' riprendendo le suggestioni che dava Pietro diciamo che io riprendo da dove ho chiuso l'ultima volta quindi ci tenevo a spendere un paio di parole in più sui progetti che vedremo quest'estate che in un certo senso uniscono questi territori di cui parlava prima Pietro appunto dalle forti singolarità ma che allo stesso tempo riescono ad agire in collaborazione in particolare sto parlando del collettivo Mamadù che è un collettivo che si occupa è un collettivo di Bolzanini quindi in Alto Adige che si occupa di migrazioni nel locale Bolzano infatti è una situazione molto problematica dal punto di vista dei migranti che non vengono accettati all'interno delle strutture pubbliche se non mandati direttamente dal governo ma che sono riusciti ad aprire una progettualità nella piana di Rosarno quindi nel ghetto di San Ferdinando lì dopo diversi viaggi in cui sono andati a fare una scuola di italiano all'interno del ghetto hanno deciso di lanciare un crowdfunding per finanziare una struttura polivalente progettata da due architetti e un ingegnere che verrà costruita in Alto Adige smontata e riassemblata nel ghetto di Rosarno e che fungerà non solo da scuola per una primissima alfabetizzazione ma anche come luogo per fare del supporto legale e del supporto sanitario tanto quanto loro diciamo sono contenti di riuscire a portare così diciamo da lontano questa loro progettualità e questa loro esperienza altrettanto chiaramente hanno bisogno e continuano ovviamente a collaborare strettamente con le realtà locali calabresi in particolare SS Rosarno nota per il suo impegno diciamo pluriennale nella piana noi ovviamente abbiamo supportato questo progetto il crowdfunding ma anche i viaggi precedenti di Matteo che ha sempre raccolto le sue testimonianze sul sito meltingpot.org ma chiaramente di nuovo come campagna andremo poi a seguirlo quando effettivamente questa struttura verrà installata sempre nell'ottica non certo di diciamo gestire qualcosa dall'alto e da fuori quanto piuttosto di inserirsi all'interno di un contesto e cercare quanto più possibile di autogestire quella situazione con le persone locali ma ovviamente anche con i migranti stessi accendo di nuovo proprio velocemente a 20 miglia dicendo che sta aprendo questo sportello legale cosa che in questo momento non esiste a 20 miglia anche se le necessità sono veramente alte visto le continue violazioni dei diritti umani che si hanno in quelle zone e infine ci tengo a dire che il viaggio che faremo sarà poi seguito da comunque delle presentazioni che faremo infatti non solo il viaggio sarà riportato sul sito meltingpot.org ma ci teniamo particolarmente poi a riportare quell'esperienza quelle foto quei video all'interno di varie realtà in modo da avere effettivamente uno scambio con le persone che anche hanno la possibilità di domandare di chiedere di intervenire di rendersi conto di quello che veramente succede nel Mediterraneo proprio perché in questo momento la narrazione vigente è tossica non ha nessun tipo di controparte ed è il caso di costruirla quanto diciamo più saldamente possibile perché è probabile che questo tipo di attacchi non solo verso gli attivisti e i solidali in generale ma in particolare contro le ONG continueranno solo che a peggiorare e quindi di nuovo ribadiamo che chiunque fosse interessato può scrivere a redazione chiocciolameltinpot.org per informarsi sulle successive presentazioni ma anche se siete interessati proprio per riportare questa esperienza all'interno delle vostre città o dei vostri spazi allora io penso proprio che forse in Italia in questi anni io ho vissuto in Italia 29 anni sono arrivata in Italia avevo un mese io sono ancora marocchina ho un passaporto marocchino qui però il Parlamento europeo ha detto che io sono aspetta cittadina europea per il 2016 come se io rappresento l'Italia no io rappresento il Marocco perché non ho mai avuto il diritto di voto in Italia ma va bene questi sono piccoli dettagli in questi anni di attivismo in questi anni di di riunioni io ovviamente posso parlare della mia realtà in Sicilia anche se ovviamente il nostro massimo tetto è stato Roma quindi magari quelle dieci ore con il pullman arrivare per fare una riunione a Roma arrivare sfiniti e l'indomani tornare altre dieci ore io penso che in Italia forse nell'ambiente dell'attivismo si è dimenticato un collante fondamentale e questo collante fondamentale è la parola migranti i migranti non sono persone da invitare alle riunioni i migranti sono le stesse persone che devono organizzare le riunioni e devono invitare noi quando sono scesa in Grecia io ho rischiato un arresto la giornata prima di Dubai quando sono arrivata in Grecia io solitamente mi muovo da sola sono un cane sciolto arrivo in un posto sono sola dopo due tre giorni creiamo una sorta di coordinamento con i migranti i migranti vivono molto di questa parola coordinamento il coordinamento cioè un gruppo che fa servizio di sicurezza un gruppo che si occupa di capire se l'indomani forse c'è una retata della polizia che vuole fare qualcosa dentro il campo un gruppo che fa ci sono degli interpreti che lavorano con la polizia che hanno un po' di informazioni prima che il fatto possa accadere ci sono molti interpreti che fanno un bel lavoro che è quello di dire ragazzi domani succederà qualcosa organizzatevi quando si arriva in un posto a me è successo nell'isola di Lesbo è successo molto molto in Grecia arrivare in un posto significa creare una grande rete con i migranti per averli vicini nel momento in cui bisogna fare qualcosa ed è proprio il 17 maggio è stato dato l'ordine di arrestarmi c'erano sei camionette della polizia armati fino ai denti cioè stanno tutto il tempo con lo scudo tutto il tempo con il casco e con il manganello però quel giorno si erano un po' spinti oltre perché c'era una famiglia che era davanti al campo una famiglia che diceva semplicemente noi vogliamo stare in una tenda con delle famiglie non vogliamo stare in una tenda con dei ragazzi semplicemente perché ci sono esigenze diverse magari i ragazzi tornano alle 4 del mattino magari qualcuno ha bevuto un po' di più ed è normale che una famiglia dica bene metteteci in una tenda con le famiglie la polizia greca dentro Moria dentro l'hot spot di Moria ha preso la bella decisione di prendere tutte le borse di questi migranti di metterli davanti alla porta e di dire se non vi piace tornatevene in Siria non abbiamo problemi è proprio la frase che questa donna continuava a dire era go Siria go Siria questa donna insieme ai suoi bambini insieme al marito si sono seduti davanti al campo e ad un certo punto la polizia ha deciso di sgomperarli con l'uso della forza lì un solo messaggio in una chat di gruppo che avevamo tra di noi tra i migranti e io che ero fuori ha fatto uscire tutti tutti quelli che dovevano fare un lavoro in quel momento tutti hanno acceso il telefono tutti hanno iniziato a filmare tutti erano pronti a quello che alla reazione della polizia bene la reazione della polizia mentre io stavo facendo un video con il mio cellulare e stavo prendendo la testimonianza della donna che mi ha detto girati è quello il poliziotto che ha fatto questo io appena ho girato il telefono il poliziotto mi ha preso il braccio me lo ha girato e mi ha dato un calcio qui questo è stato il momento in cui io ho lanciato il telefono ad un ragazzo gli ho detto scappa non tornare con il mio telefono e in questo momento i migranti sono auto organizzati hanno fatto una barricata tra me e la polizia non hanno permesso alla polizia di toccarmi mi hanno fatto scappare hanno preso la mia macchina mi hanno messo in macchina e siamo scappati e io sono scappata dall'isola di Lesbos avevo fatto una diretta in cui chiedevo a tutti gli avvocati che erano presenti lì di fare qualcosa perché la polizia greca mi cercava lì mi sono resa conto che il punto di forza sono loro perché io lì davanti e lo dico senza nessun tipo di problema c'erano tre organizzazioni riconosciute a livello internazionale io ci sono andata davanti a tutta la polizia dicendo per favore un avvocato qualcuno fate qualcosa uno di loro mi ha dato il telefono e mi ha detto io non posso fare niente posso solamente darti il telefono se vuoi fare qualche chiamata perché ha visto che io dicevo di non trovare il telefono perché la polizia continuava a dirmi dove è il telefono e io continuavo a dire Alibaba la polizia greca usa la parola Alibaba per dire che tutti i migranti sono ladri e io gli ho detto tutti i migranti sono ladri mi hanno rubato il telefono nel momento in cui voi mi avete preso la mano e quant'altro quindi tra Alibaba Alibaba tra una barricata fatta dai migranti e tra Nawal che è riuscita a uscire da quell'isola che poi è tornata quando sono arrivati i parlamentari che c'è stata una diciamo un'entrata a parte di parlamentari del Parlamento Europeo io ho fatto arrivare questo video a tutti quelli che potevano fare qualcosa quando sono tornati i parlamentari sono arrivata io nell'isola lì davanti a Mori a guardare lo stesso poliziotto e le stesse persone che avevano dato l'ordine di arrestarmi qui io quello che voglio dire magari mi sbaglio ma forse in Italia abbiamo bisogno di quel collante che sono gli stessi i migranti e vi dico una cosa che non è banale i migranti hanno la caratteristica di essere migranti e il passaparola cioè immaginate un gruppo un coordinamento di ragazzi che stanno nel milanese la sera chattano parlano fanno chiamate e parlano con chi? con l'amico che sta a Catania le informazioni molto importante le informazioni non possono circolare solo su Facebook non possono circolare solo su internet il contatto diretto quasi tutti i giorni i migranti lo creano ed è molto forte il mio stesso numero di telefono come ha fatto il giro del ha fatto il giro del mondo perché una volta mi ha chiamato un ragazzo mi ha detto io sono in Giappone e sono dentro l'aeroporto e hanno scoperto che il mio passaporto è falso cosa devo fare e siamo riusciti a trovare un avvocato in Giappone nell'arco di mezz'ora questo per dirvi che i migranti riescono a creare una rete che ovviamente è dovuto al fatto che hanno migrato da paese a paese a paese a paese e hanno lasciato un'impronta dappertutto noi dobbiamo sfruttare questo secondo me so che dal pubblico c'erano già delle domande che è